ottimo il tiki taka qui gran dribbling si finalmente cazzo mi ha sostituito mi ha sostituito ma ti rendi conto mi ha sostituito mi ha sostituito ma ti rendi conto mi ha sostituito avanza però bellissimo lo salto c'è il tiro non ha parata la mette in mezzo la difesa spazza via il pallone ovviamente non c'è stato tempo per fare gol però cazzo abbiamo perso di nuovo punti in campionato contro il modena adesso ragazzi modena palermo giochiamo questa partita il parma è 1 a 0 attenzione ragazzi dobbiamo vincere per forza questa partita ma proprio obbligatoria come tutte come tutte le partite possiamo provare sono da solo ci posso provare resti sono tornato a fare gol finalmente 1 a 0 subito dopo 11 minuti ragazzi si prova il moden adesso a prendersi il pareggio si prova con tutti i modi prova tanti passaggi c'è il tiro ha sfiorato ha sfiorato il gol non dobbiamo fare queste minchiate la difesa nostra mi sa che si è messa a dormire invece ha recuperato il pallone perfettamente ma perché indietro l'unico velocista sono io qua lo posso saltare lo posso saltare a chi riesco ci posso anche provare a tirare gol sul primo palo il primo palo il col questo diciamo che il portiere vaga fatto cagare perché no il moden è solo e mi sono sentivo mi sono distratto e se non bestemmio guarda il punteggio adesso è di due a uno mi passano proprio le parole da dire io quando vedo queste cose ragazzi sono qua da solo io posso andare incontro più finisce il primo tempo ragazzi vabbè qui rischiano di farci il pareggio attenzione perché io non l'ho accetto una cosa del genere ho fatto tanto per fare questi due gol guardate guardate raga guardate siamo di schianza di brutto attenzione ci provo dalla distanza ma che gol l'ha fatto ma che gol l'ha fatto ha fatto un bellissimo gol tuttino ragazzi forse tuttino sono qua da solo perché allora io voglio capire il perché ma non sono ok che non ci vedono non lo so ci posso provare io 4 a 1 tipo questo guardate ci va a prestare no rimaniamo fermi che è meglio ma se io ci provo da qui oh mio dio quasi oh madonna ma fermatevi non potete farli giocare così prendila la palla vaffanculo pure terra a chi l'ha passata finisce la partita 14 allora regala classifica ancora alla coppa italia ottavi di finale c'è siamo al secondo posto a meno otto punti dal parma raga meno otto quindi abbiamo perso due punti abbiamo perso abbiamo la partita di coppa italia contro l'inter ragazzi è qua non possiamo scherzare non possiamo fare niente non possiamo sbagliare nemmeno un colpo ragazzi qua è dura coppa italia contro inter inter palermo anche a casa loro siamo a milano raga difficilissima questa partita è passata la palla finalmente adesso che acceleriamo acceleriamo ci portiamo in avanti possiamo portare in aria di rigore possiamo anche provare il tiro recuperiamo palla dai non facciamoli attaccare perché questi sono forti non facciamoli attaccare attenzione l'inter l'inter ci vuole provare l'inter ci vuole provare ma la difesa ferma tutto ripartiamo adesso in contropiede ce la possiamo fare mi sto liberando mi sto liberando sono in mezzo pass bellissimo passaggio ci posso provare e vedrete un bellissimo collo un bellissimo collo ragazzi un bellissimo collo attenzione alla difesa troppa scoperta attenzione perché l'inter ci prova a fareggiarla ci prova con questa serie di passaggi di sfiora la rete me la passa prova il tiro hanno evitato anche il calcio d'angolo attenzione un'azione bella dell'inter l'anno stareggiata con un'azione bella tutto da rifare per il salerno l'inter tiene palla con tutte le sue forze lukaku l'inter però tiene palla tiene palla e non molla prova in tutti i modi a vincere questa partita l'inter attenzione attenzione che ci prova dalla distanza barella quasi quasi abbiamo rischiato qui attenzione screener attenzione violente fiore alla rete lo supero incredibile avanziamo nella loro metà campo vediamo super anche lui con un passaggio bellissimo vediamo se riesco a mettermi in mezzo se la crossa forse ci possiamo provare di testa sul primo polo del portiere niente da fare spazzo all'ultimo posso ripartire in velocità ci riesco posso superare anche i difensori vediamo cosa posso fare da questa distanza cazzo d'angolo cazzo d'angolo giusto dai che lo prendiamo e siamo zitti guardami qua bellissimo questo e nooo i difensori ne hanno chiuso purtroppo grande azione comunque bravi ragazzi si gioca sempre così attenzione all'inter con un grosso in mezzo la difesa c'è un po troppo lungo direi visto che io ero libero da solo lì attenzione non ho capito il perché io comunque ci devo provare a fare un gol ci provo da una distanza eh era lunga da distanza ha recuperato palla però è stato atterrato eh è stato atterrato e l'ha ucciso completamente ma l'ha ucciso completamente eh Di Mariano infortunato ragazzi vediamo se da questa posizione ci posso provare ma il portiere la para attenzione per caso di ripeto un po troppo scoperta c'è eh la respinta ma si gioca e c'è il gol tocco vincente tap in dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclusione eh ragazzi eh ragazzi è difficile l'italiano ha distrutto il nostro sogno di Coppa Italia almeno per il momento ma io dico che ormai non ci sta niente da fare più è finita ragazzi è finita la Coppa Italia inizia inizia il sogno Coppa Italia si posso anche provare attenzione è successo una cosa assurda mi ha buttato in aria ma il l'arbitro mi ha fischiato un cazzo ragazzi quella è rigore si posso provare 3 a 2 ragazzi attualmente però siamo ancora fuori la difesa spazzo attenzione perché prendo palla posso andare avanti posso andare avanti corrento vediamo se ce la faccio sono stanchissimo ovviamente dopo 90 minuti di corse eh mi ruba palla però ancora nostra ci posso provare di testa la palla è lì eh il portiere però attenzione perché con un cross possiamo eh invece no dai non è possibile non è possibile se facevo un cross potevo ripartire io e l'Inter richiude la partita e si manda a casa Morata manda a casa il Palermo ormai non c'è più niente da fare ragazzi la partita è finita tutto inutile è stato non essere rimasto denuso qui oh 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 Grazie a tutti.